Chi sei? Mi chiamo Marinella Marchetti, ho quasi 17 anni Cosa fai? Studio e faccio il terzo anno di liceo classico qui a Massa Marittima Cosa pensi della politica? Sinceramente fino ad oggi, fino a quando mi avete contattato e così non mi ero mai avvicinata tanto avevo ascoltato il telegiornale, sentito le opinioni di famiglia e basta In questo momento invece sto cercando di interessarmi di più sono una parte appunto per sentire qualcosa Cosa pensi di fare per il partito e per la comunità in cui vivi? Nel mio piccolo spero di poter contribuire a cambiamenti insieme a tutti gli altri giovani Ok, grazie